Shabbat shalom a tutti e vi voglio dare benvenuto oggi alla parashah di questa settimana. Oggi è il 7 aprile 2023, l'anno 5783 in calendario ebraico e oggi si chiama Shabbat Chol Hamoet Pesach, che vuol dire lo Shabbat o sabato intermedio di Pasqua. E leggeremo oggi dal libro di Esodo, capitolo 33, versetto 12, fino al capitolo 34, versetto 26. E per la after hour, la porzione profetica, leggiamo i numeri 28, capitolo 28, versetto 16 a 25, Josue, capitolo 5, versetto 2, fino al capitolo 6, versetto 1 e Ezechiele, capitolo 37, versetti 1 a 14. E per il Kharushah ho il nuovo patto. Leggiamo Giovanni capitolo 1, versetti 29 a 31 e capitolo 19, versetto 31, fino al capitolo 20, versetto 1. Molto breve nel Kharushah oggi, però c'è più da leggere nell'Altarà. E sono Rabbino Clint Harald Trai e prima di iniziare questo tempo insieme vorrei aprire in preghiera. Rabbino Mocchino, Abba Padre, nostro Re, ti voglio ringraziare di nuovo per poter stare nella tua presenza, tutto per merito di Yeshua HaMashiach e il suo sangue. Ti chiedo di guidarmi e che tutto ciò che esca dalla mia bocca sia per la tua gloria. La Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, nel nome di Yeshua. Amen. Sarà molto breve oggi e, come ho detto, si chiama Shabbat Cholhamoed Pesach e il termine ebraico Cholhamoed si riferisce ai giorni intermedi non sacri di una festa biblica. E ci sono solo due feste che hanno questi tipi di giorni sono la festa dei Panni di Azimi, cioè Pesach o Pasqua ebraica, e la festa di Sukkot o Tabernacoli, che hanno questi tipi di giorni. La festa dei Panni di Azimi è una festa di sette giorni, come sapete, e la Torah disegna il primo giorno, il settimo giorno, come giorni di santa convocazione, in cui il lavoro è vietato, probito. I cinque giorni intermedi sono, si chiamano Cholhamoed, o cioè giorni intermedi, e non sono sabati di festa o sante convocazioni, ma fanno ancora parte della festa. Il termine Cholhamoed significa giorni non sacri del tempo stabilito. I giorni intermedi sono non sacri, solo se contraposti ai giorni di santa convocazione in cui è proibito lavorare. I giorni festivi intermedi conservano ancora la santità della stagione festiva e comandamenti speciali della festa. Ad esempio, la Torah proibisce il lievito per tutti i sette giorni della Pasqua ebraica, tra le dita nativo viva in una succa, una tenda, una piccola struttura non permanente, per tutti i sette giorni della festa di succotto e tabernacoli. Quindi, tuttavia, i giorni intermedi di quelle feste sono meno sacri dei giorni della santa convocazione, perché la Torah ci permette di lavorare. Ok? Questi giorni bisogna lavorare, sennò non si può vivere. E al di fuori della terra di Israele, nella diaspora, il giudaismo tradizionale raddoppia i shabbat, cioè i santa di festivi, è vestigia di un'era di intercezze sul calendario. Il raddoppio di giorni sacri riduce di uno il numero dei giorni intermedi. Molti credenti messianici, invece, non seguono l'usanza della diaspora di raddoppiare i giorni sacri. Un sabato regolare del settimo giorno, cioè sabato. Shabbat, che cade in un giorno di Chol Hamoed, è chiamato Shabbat Chol Hamoed. Perciò oggi si chiama Shabbat Chol Hamoed Pesach, perché è di Pesach. Shabbat Chol Hamoed non è veramente Chol, cioè non sacro. Invece la santità del sabato stesso è quella che lo rende santa. Lo consideriamo non sacro, solo rispetto al tempo stabilito, ma la santità sempre del sabato settimanale è maggiore della santità delle feste. Per Shabbat Chol Hamoed Pesach, i saggi assegnarono la parte della Torale di Esodo 33, versetto 12 a 34, versetto 26. E in Maktir, nei numeri 28, cioè capitolo 28, versetti 19 e 25. E l'Altarà è la visione di Ezechiele delle ossa secche. Nel sabato, che cade nei giorni intermedi della peste di Pasqua, il passaggio che leggiamo dalla Torà è quello che inizia nel sud 33, 12, dove sta scritto «Vedi, tu mi dici?» E poi l'Altarà, che dice «E le ossa secche». Questo sta scritto nel libro di Meghillah 31. Inoltre, l'usanza della sinagoga include una lettura pubblica dei cantici di Salamone durante Shabbat Chol Hamoed. Nella porzione dell'Altarà, una parte profetica, Ezechiele descrive la sua visione di una valle piena di ossa secche. Adonai gli chiede se le ossa possono vivere di nuovo. Tanto sappiamo, con Adonai tutto è possibile, però, ma questa è una visione. Ezechiele dice che non lo sa. Adonai gli dice di profetizzare alle ossa e al vento, dicendo alle ossa di far crescere i corpi e al vento di restituire il respiro ai corpi. Ezechiele lo fa e le ossa tornano in vita, come dice. Adonai dice a Ezechiele che in futuro aprirà le tombe del suo popolo e lo riporterà, cioè il suo popolo lo riporterà in vita e lo riporterà nella terra di Israele. Quello sarà un giorno fantastico da vedere. Vorrei vederlo io. Spero di poterlo vedere in persona, ma chissà. Allora sapranno che Dio poi è Adonai. Nei sapranno che Yahshua è Adonai. Perché i saggi assegnano le visioni di Ezechiele? Ha delle ossa stecche allo Shabbat? Rashi cita un racconto popolare rabbinico su un essudo fallito dall'Egitto che la tribù di Efraim tentò 30 anni prima che Mosè o Mosè tornasse da Madian. Non è scritto nella Bibbia, quindi questo è soltanto un racconto popolare. Tutti gli Efraim miti che tentarono di lasciare presto l'Egitto morirono nel tentativo e la vale di ossa secche che vide Ezechiele era un deposito dei loro resti. In alcune occasioni i saggi sceglievano porzioni di Hattara sulla base di racconti popolari e associazioni leggendarie. Un'altra opinione rabbinica cita una tradizione secondo cui la risurrezione dei morti avverrà nel mese di Nisan. Pertanto la sinagoga legge il classico testo della risurrezione come prova dell'evento. Quindi, in una prospettiva apostolica, la lettura non può essere separata dal ricordo storico della risurrezione del nostro maestro Yeshua. A seconda di come si calcola la cronologia della settimana della passione di Yeshua, il sabato dopo la sua crocifissione ha coinciso con il primo giorno dei Pani Azimi o Shabbat Ho Hamoed. In entrambi i casi, il primo sabato, Shabbat che cade nei sette giorni dei Pani Azimi, è l'anniversario del soggiorno del nostro maestro nella tomba. Secondo Matteo 28.1, risuscitò dalla tomba quel sabato sera, quando il sabato si concludeva e iniziava il primo giorno della settimana. Così, alcuni dicono. La Bibbia sta scritta che Yeshua è morto il pomeriggio prima dello Shabbat. Cosa sarebbe venerdì pomeriggio? Quindi, se contiamo tre giorni, stiamo contando fino a lunedì pomeriggio. Però sta scritto che lui era il primo frutto. Quindi sarebbe anche domenica. Quindi ci sono tante diverse idee. Quindi c'è chi dice che lui è morto di giovedì, alcuni dicono mercoledì, per poter risorgere in quel tempo. L'importante è che è il morto, è stato morto per tre giorni e è risorto. E' possibile, poiché la recitazione annuale di Ezechiele 37, versetti 1 a 14, sia un'altra impronta lasciata dai primi credenti, pure, nella tradizione ebraica. Almeno così tanti pensano. Forse hanno adottato il passaggio delle ossa sette per Shabbat, Polhamoed, Pesach, per onorare la risurrezione del nostro maestro, Yeshua. E l'usanza si è diffusa poi nel giudaismo, quella generale. Non si sa, e non so, penso che si saprà quando siamo davanti al trono e quando siamo con Yeshua. Questo è tutto per oggi e vi voglio augurare Shabbat Shalom e benedizioni. Come sempre, cliccate il link sotto per contattarci con domande e altri commenti. Poi ci sta il link sempre come per le nostre risorse gratuite. E il link per il Marka Seysha Tikva, che sarebbe il sito in italiano e inglese, dell'Arabizzi in Gabriella, che offre servizi di aiuto spirituale basati sulla Bibbia, perché è un counselor al rispetto qui in Italia. E' un bel sito per coloro che hanno bisogno di aiuto, di sostegno, per cose passate, anche cose che magari si sta passando adesso. Tutti noi passiamo a delle difficoltà, quindi c'è sempre bisogno di aiuto. E' inutile che tanti credenti mi dicono, io sto bene, sto bene nel Signore. Sì, stiamo bene nel Signore, è vero? Ma il Signore ci dà l'aiuto e sostegno di altre persone. Questa è anche una verità. Poi c'è anche un link per sostenerci, perché per coloro che vorrebbero aiutarci a portare avanti la parola e portare il messaggio della salvezza di Yeshua al nostro popolo. Grazie di nuovo. Shabbat shalom a tutti. Grazie. 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 Grazie.